in qualunque epoca della storia dell'umanità ci sono sempre stati quei grandi centri di potere economico e politico che hanno avuto la forza di attirare a sé le più grandi menti dell'architettura dell'arte del tempo per costruire grandi opere monumentali in grado di impressionare non solo i contemporanei ma anche le generazioni a venire nella nostra epoca uno di questi posti per quanto non l'unico è sicuramente la città di dubai uno dei sette emirati che compongono gli emirati arabi uniti dubai è una città che ha avuto una metamorfosi sconvolgente cioè nel giro di 30 anni è passata da essere una città dall'aspetto assolutamente ordinario in medio oriente a essere un vero e proprio polo del lusso del boom economico della sperimentazione architettonica sfrenata alla costante ricerca di infrangere i record precedentemente stabiliti nel mondo ed è così che sono nati il più grande centro commerciale del mondo l'albergo più lussuoso del mondo edifici dalle forme più strane mai visti sul pianeta terra come il famoso Burj Al Arab questo albergo lussuosissimo che ha la forma di una barca a vela ma non c'è alcun dubbio che l'edificio in assoluto più iconico e più simbolico di tutta dubai sia il suo grande grattacielo il Burj Khalifa pensate 830 metri di altezza è il più grande grattacielo del mondo da quando è stato costruito ed è anche la prima cosa che compare dalla nebbia dalla foschia di dubai quando ci si avvicina alla città e anche dentro la città lo vedi spuntare ovunque perché è talmente alto che non c'è un punto della città da cui non lo vedi per un fotografo poi è da un lato una benedizione dall'altro una maledizione perché se è vero che è l'elemento ideale per creare delle immagini da cartolina dall'altro quando ci sei sotto non riesci neanche a farlo stare nell'inquadratura della macchina fotografica perché è talmente alto si perde nell'alto dei cieli ma pensate che nonostante questo e nonostante sia stato costruito appena 15 anni fa a dubai è già in costruzione un grattacielo che quando sarà terminato sarà ancora più alto al momento i lavori sono sospesi ma se dovessero riprendere e arrivare al termine a dubai verrà inaugurato un grattacielo alto 1300 metri la dubai creek tower pensate 500 metri più alta del già altissimo Burj Khalifa e capite bene che una città che è in grado di esibire costantemente queste potenzialità e queste capacità di certo non può lasciare indifferenti e come tutti i luoghi con queste caratteristiche dubai è un posto che tende a dividere molto ci sono quelli che la amano e quelli che la odiano quelli che ritengono una frontiera dell'evoluzione umana e quelli che invece la ritengono un sintomo di tutte le cose che non vanno nel mondo moderno come il consumismo sfrenato e la non sostenibilità non è compito di un viaggiatore giudicare il mondo il compito di un viaggiatore è vederlo conoscerlo e interpretarlo sulla base della propria sensibilità e delle proprie conoscenze pertanto sono sicuro che tra di voi ci saranno persone che adoreranno dubai e altre a cui invece non piacerà per niente ma non c'è alcun dubbio che una città che è costantemente in grado di rompere record su record non lascerà mai indifferenti nessuno di voi e sarà anzi sempre un ottimo spunto di riflessione per chiedersi se la direzione che ha preso l'uomo sia una direzione giusta o sbagliata se valga la pena continuare una certa direzione o riconsiderare certe cose a queste grandi domande sarete voi a dare una vostra risposta personale chissà magari la prossima volta che sul giornale leggerete che a dubai è stato battuto un altro record